Giovedì 8 aprile la polizia della provincia di Sondrio ha concluso un'altra operazione antidroga che ha portato all'esecuzione di cinque misure cautelari, di cui tre arresti domiciliari e due d'obbligo di dimora. L'operazione, denominata Genius, ha preso il via da due distinte indagini in corso già da alcuni mesi, svolte anche con intercettazioni telefoniche e appostamenti nei confronti di alcuni spacciatori di droga, dei quali solo uno aveva precedenti specifici. L'attività investigativa ha portato all'individuazione di cinque corrieri che si occupavano della distribuzione soprattutto di cocaina, hashish e marijuana in baltellina, per i quali il GIP del Tribunale di Sondrio, su richiesta della locale procura, ha emesso altrettanti provvedimenti restrittivi per concorso nel reato continuato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Agli arresti domiciliari sono finiti Matteo Sala, 21enne, Yuri Kiriliak, 19enne, Ucraino e Aladino, Bensmaia, 23enne, Tunisino, tutti con domicilio a Sondrio. Inoltre, proprio nel corso della perquisizione effettuata presso l'abitazione di Bensmaia, svolta con le unità cinofili e antidroga della polizia, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 15 grammi di cocaina oltre a due bilancini di precisione a 1000 euro in contanti, risultato dell'attività di spaccio, per cui il giovane tunisino è stato tratto in arresto e trasferito al carcere di Sondrio a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le misure cautelari dell'obbligo di dimora sono state eseguite nei confronti invece di un ragazzo tunisino di 21 anni domiciliato a Sondrio, così come un altro giovane di 20 anni residente delle chiese. La seconda operazione degli uomini guidati dal questore Massimo Alberto Colucci ha portato all'arresto per detenzione ai fini di spaccio di Chantal dell'Agostino, 29enne di Sondrio, già con precedenti specifici. La donna, fermata dagli operatori di polizia, è stata trovata in possesso di circa 7 grammi di eroina, già suddivisa in 4 dosi e mezzo grammo di hashish e di 200 euro, presumibile provento della vendita della droga. Inoltre nella sua abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati due bilancini di precisione. La donna pertanto è stata posta agli arresti domiciliari.